Ai microfoni tutto Provercelli.com, battaglia. Oggi un risultato 0-0 che sta un po' stretto a Provercelli. Sì, sta un po' stretto, più che altro alla fine, secondo me, è il risultato giusto. Siamo riusciti a non prendere gol, facciamo un po' fatica in fase offensiva a farlo, però guardando gli dati positivi, siamo riusciti a non prendere gol e sta proprio portato a casa un punto, anche se in casa si spera sempre di vincere. Una difesa blindata, ma non si può dire che Breghini abbia provato un po' di tutto in attacco per cercare di bloccare la situazione. Sì, ma di soluzioni ne abbiamo, quelle non ci mancano, è più una questione globale, non è una questione di singoli o di reparto offensivo, proprio un concetto di squadra che va migliorato e un modo da portare i giocatori più offensivi a rendersi più pericolosi. Grazie, battaglia. A te.